In zona strategica a Novara, sul baluardo La Marmora, Artecasa propone in vendita questo appartamento completamente ristrutturato al quinto piano con ascensore. È composto da ingresso, soggiorno con zona pranzo, cucina abitabile, due ampie camere, bagno finestrato, lavanderia e ripostiglio. I balconi sono tre, da cui si gode di un bell'affaccio sul verde che dona anche riservatezza ai locali. Infine, una cantina. Lo stabile ha subito ristrutturazioni importanti quali il rifacimento del tetto e sostituzione della centrale termica. A pochi minuti dalla stazione ferroviaria degli autobus, adiacente al centro storico e al polo universitario, così come all'ospedale, alle scuole, questo immobile rappresenta la soluzione perfetta per le più svariate esigenze. Per informazioni dettagliate, lo staff di Artecasa Immobiliare è a vostra disposizione. Artecasa. L'arte di vendere case.